Eventi in Toscana, rubrica a cura della redazione giornalistica di TV1 Domenica 19 aprile a Pian Disco il primo raduno di mountain bike Tafanos Bikers, la strappa porpacci Memorial Daniele Taviti, 23 km di raduno non competitivo, si parte alle 8 con le iscrizioni, alle 9 la partenza Alle 12 l'arrivo previsto e il ritiro del pacco raduno, ricco buffet a seguire Servizi di docce e lavaggio bici per tutti i partecipanti L'evento è a favore dell'ospedale pediatrico Meyer Appuntamento dunque domenica 19 aprile a Pian Disco per il primo raduno di mountain bike Organizzato dalla Tafanos Bikers, dal titolo la strappa porpacci Eventi in Toscana, rubrica a cura della redazione giornalistica di TV1